La flessibilità in uscita è più vicina, io sono molto soddisfatto perché è da tre anni che mi batto per questo risultato. Si tratta di vedere qual è il merito della proposta, lo dico, io non voglio una pensione pagata in anticipo da una banca, voglio che l'ufficiale pagatore sia l'Inps e almeno un anticipo di quattro anni. L'APE proposto da Nannicini è sul tavolo, va discusso, come ha detto il Ministro, bisogna trovare una soluzione condivisa, trovare un compromesso, nei compromessi si possono fare correzioni, io propongo delle correzioni. I lavoratori, anche nella proposta che io ho avanzato, pagano nel senso che c'è un taglio per ogni anno di anticipo del 2% sull'assegno pensionistico, credo che su questo i lavoratori siano d'accordo. Quello che i lavoratori vogliono è che sia l'Inps a pagare l'assegno e che non sia la banca il punto di riferimento.